salve a tutti e bentornati nel canale o forse dovrei dire nel podcast signori questo è metal mind e io sono frank horseman metal mind come potete vedere constatare come già sapete è il mio podcast il podcast in cui si parlerà di metal in generale e insomma di tutto quanto il il mondo della musica in generale diciamo sono stato un po costretto tra molte virgolette oggi a portarvi un contenuto del genere perché vedevo che il tempo andava avanti passano le settimane e io non concludevo niente per quanto riguarda i miei contenuti i miei prossimi contenuti un po perché diciamo che sono contenuti abbastanza difficili da andare a sviscerare continuano a venirmi nuove idee in mente e difficile appunto metterle in atto mi ci vuole molto più tempo di quello che penso e quindi sto lavorando veramente su dei contenuti abbastanza grandi il tempo poi è poco visto che comunque sia lavoro e altro tempo libero per fare altre cose quindi diciamo che mi sono trovato costretto a fare un contenuto del genere un po meno impegnativo infatti se vedete sono qui voi non potete vedermi giustamente però io sono qui e sto parlando davanti allo schermo senza proprio senza uno script diciamo che sto andando molto a braccio a sentimento e parlerò molto spicciolo diciamo andrò molto ecco a sentimento alcune cose me le sono appuntate ma sono proprio cose di base diciamo dei punti che devo andare a sviscerare in poche parole in questo video quindi detto questo signori mettetevi comodi mettetevi su una voltrona se siete in macchina non penso che vi dobbiate mettere ancora più comodi prendete un paio di cuffie se siete a letto come faccio io quando guardo i video su youtube rilassatevi ci saranno i prossimi 10 minuti di pura leggeresse come direbbe qualcuno e si parlerà appunto delle novità e del mister folk fest che si sta avvicinando molto pericolosamente e di quello che in poche parole sarò chiamato a fare sabato appunto al traffic allora per quanto riguarda le novità in realtà sono ben poche a parte questa che finalmente diciamo mi sono tra molte virgolette costretto a fare una nuova puntata di metal mind quindi sto portando avanti anche il podcast e mi sono reso conto che effettivamente se non ho abbastanza tempo per poter mettermi lì a pensare di dare un video posso anche lasciare non lasciare scoperto il canale appunto portando una nuova puntata del podcast che è un po meno impegnativa posso mettermi qui tranquillamente a parlare davanti al microfono senza poi andare a fare grossi lavori per quanto riguarda l'editing finale proprio per quanto riguarda il video ovviamente non è che sto dicendo adesso farò solo metal mind no diciamo che metal mind è l'ultima spiaggia per quando non ho tempo e per creare contenuti un po più importanti sapete questa questo video esce dopo due settimane e diciamo che non c'è mai stato un periodo di pausa così lungo tra un video e un altro ci sono state due settimane di vuoto e mi sentivo veramente in colpa e fortunatamente ho avuto questa genialata ho fatto ma perché non parlo del mister folk fest e faccio appunto un podcast ne parlo in metal mind e qui siamo qui signori a parlare del mister folk fest che si terrà appunto sabato prossimo al traffic di roma allora sappiate che questo è il decimo anniversario del mister folk fest ed è arrivato appunto alla quarta edizione ovviamente adesso io sto parlando di cose per chi già ha visto la puntata precedente di metal mind si è andato a vedere tutta la live in cui ho intervistato fabrizio già sa però questo video è anche mirato un po a chi non ha visto la live e chi si vuole godere appunto un video un po diverso e in realtà io visto che ne ho parlato anche abbastanza con fabrizio oggi vi porterò vi alcuni motivi per cui secondo me dobbiamo tutti andare al mister folk fest io in primis ma ci sarei andato a prescindere anche se fabrizio ecco non mi aveva invitato perché di motivi per andare sabato sabato 13 maggio appunto al traffic ce ne sono veramente tanti e vorrei iniziare con il primo motivo il primo motivo è perché anzi voglio dirvi di più non è un solo motivo ma ne sono ben sei perché sono appunto i sei gruppi che suoneranno sabato sera al traffic sono i sei gruppi che fabrizio ha scelto appositamente per questo decimo anniversario del mister folk fest sto parlando appunto degli egan dei durwin dei bloodshed valala dei luquins di degli ade e dulcis in fundo di saor ora saor quando è stato annunciato pensate io adesso vi racconto questo piccolo aneddoto quando fu annunciato saor io ho visto appunto il la locandina con saor ho urlato vi giuro vi giuro ragazzi che io ho urlato e se saor non è un buon motivo per venire al traffic sabato sera io veramente non so cosa altro inventarmi perché andy regà non so da quando io ho iniziato ad ascoltare black metal non ho mai notato cioè non ho mai visto che appunto è venuto qui in italia barra roma forse in italia ci è venuto magari me lo sto perdendo però fu probabilmente l'ultima volta che è venuto era abbastanza indietro con il tempo quindi abbiamo l'occasione per vedere saor che è un musicista della madonna che fa veramente musica molto molto bella qui da noi qui in italia qui a casa nostra tra l'altro insieme a saor come appunto possiamo come vi ho elencato abbiamo altri cinque gruppi che non sono cinque gruppi così cioè comunque sia sono cinque gruppi che comunque meritano di stare su quel palco a parere mio e anche secondo fabrizio come abbiamo potuto ascoltare dalle sue parole sull'ultima intervista che gli ho fatto appunto su metal mind per quanto riguarda i gruppi che suoneranno prima di saor vi invito a seguirmi su instagram perché sto postando dei video brevi dei reels in poche parole in cui io e fabrizio vi parliamo appunto di chi suonerà prima di saor e cosa in poche parole c'è da sapere per non arrivare sabato diciamo impreparati alla serata il secondo motivo diciamo per non mancare la serata è perché ci sono io ora seguitemi il ragionamento è non è perché ci sono io perché voglio fare lo splendido è ci sono io nel senso è una buona occasione per incontrarci questo intendevo perché effettivamente se non ci incontriamo durante una serata un concerto quando ci incontriamo quindi è una buona così occasione ecco per incontrarci per ascoltare buona musica come vi ho detto prima e appunto per stare insieme per conoscerci tra l'altro per chi mi segue già mi sta cominciando ad incontrare ai concerti alle serate al traffic e di questo signori ve ne sono ve ne sarò eternamente grato non solo ecco al traffic ma anche da altre parti mi viene in mente ecco per esempio quando sono andato a milano a vedere mayhem eravate veramente in tantissimi che mi avete riconosciuto che siete venuti appunto a fare due chiacchiere con me ma eravate in tanti anche l'altro l'altra settimana ecco quando sono scesi gli slugger è stato molto bello ecco perché oltre appunto ad andare a vedere due dei miei colleghi di lavoro molto più grandi di me suonare sul palco è stata una bella occasione anche per incontrarci tra di noi anche se non era la mia serata ovviamente però mi ha fatto veramente molto molto piacere aver scambiato delle parole con voi avervi conosciuto e vorrei replicare appunto questa cosa sabato sera il terzo motivo quello con cui vado a chiudere oggi ma ce ne sarebbero veramente un miliardo di altri buoni motivi è perché probabilmente dico molto probabilmente e ci tengo a sottolineare il molto probabilmente molto probabilmente non avete niente di meglio da fare per cui perché non venire al mister folk fest perché preferire un'altra noiosissima serata a casa da soli scoglionandosi ancora di più siete da soli non è un problema perché io quante volte mi sono fatto trasferte serate al traffic da solo eppure sono sempre andato tranquillamente mi sono goduto sempre la serata ed è andato sempre tutto bene tra l'altro ecco se andate da soli non vi preoccupate si incontra sempre gente a appunto alle serate con cui si stringe amicizia con cui si può passare tranquillamente una serata io mi ricordo ecco a bologna quando sono andato a vedere i tuir ho stretto amicizia con un ragazzo appunto che era lì io ecco sono andato da solo mi sono fatto ovviamente tutto il giorno da solo non è stata una scusa per me no ma tanto sto andando da solo non mi va non è una scusa signori andare da soli non lo è per niente fidatevi ne vale la pena alzate le chiappe e venite a godervi una serata come si deve con buona musica anche perché poi probabilmente ve ne potrete anche pentire in futuro quando dire quando in futuro magari ci ripensate dite oh è venuto saura certo che sono stato un coglione a non venice perché non mi andava certo regà se ci avete da fare se ci avete da lavorare voglio dire non è che vi sto appunto a una pistola che dovete venire per forza però diciamo ecco se veramente non avete niente di meglio da fare non prendetela come scusa non viene nessuno perché fidatevi poi ve ne pentite tanto ricordatevi regà è sabato domenica non si lavora a meno che non vi chiamate frank che lavora al mcdonald ma tanto il problema di lavorare il giorno dopo a me almeno non si pone visto che comunque probabilmente lavorerò sera adesso non mi ricordo i miei turni e voglio dire anche se fosse non mi sono mai e dico mai fatto problemi a affrontare una trasferta oppure andare appunto a una serata quando il giorno dopo lavoravo anche la mattina presto tante volte magari mi capita anche fare serata con gli amici a fare altro magari a giocare a dungeons and dragons e il giorno dopo magari lavora a pranzo o anche i miei i miei amici lavorano a pranzo oppure ecco ho fatto mi ricordo una una serata appunto quando giocavo a dungeons and dragons che il giorno dopo io attaccavo alle 9 di mattina e abbiamo fatto tipo le quattro ma ehi si vive una volta sola sinceramente si può fare si può fare signori non perdetevi dietro questi ragionamenti non fidatevi perché poi dopo entrate in un loop e cominciate a non fare niente io non mi sono mai fatto problemi come dicevo ad affrontare trasferte quando il giorno dopo poi lavoravo me ne viene in mente un'altra per esempio quella di flash god apocalips a perugia io praticamente ho sono andato a perugia e il giorno dopo ho lavorato come stessa cosa vale per i mei signori effettivamente così è così non vi fate veramente problemi anche perché se no certo organizzatevi cercate il modo per organizzarvi ma non vi chiudete non vi precludete queste esperienze fidatevi perché non ne vale la pena poi ecco mister folk fest c'è appunto a roma a casa nostra per cui chi può venire venga perché veramente signori ne vale la pena poi ovviamente per chi non può venire per altre cose non vi preoccupate io sarò lì sabato dopo che ho staccato da lavoro e andrò lì dal pomeriggio appunto per filmare tutto il backstage per appunto portarvi un contenuto sul canale che sia diverso dal solito e grazie anche a fabrizio che mi ha invitato a fare questo lavoro e mi ha dato fiducia quindi signori preparatevi perché sabato sera sarò al mister folk fest in veste di appunto content creator in veste di frank ci divertiremo tantissimo io mi divertirò tantissimo a girare il backstage e vi aspetto veramente numerosi vi aspetto numerosi sperando che appunto vi divertiate anche voi e quindi niente ci divertiremo tutti insieme ad ascoltare della bella bella musica vi ricordo inoltre che si inizierà molto presto allora purtroppo sono cambiati un po gli orari dopo che ho registrato il podcast però fortunatamente non l'avevo ancora caricato e quindi ve li posso comunicare apertura porte alle 17 e 30 e il primo gruppo gli eggen comincerà a suonare alle 18 quindi signori mi raccomando occhio all'orario perché veramente è molto presto però fidatevi che ne vale la pena quindi signori venite presto perché se no vi perdete i gruppi se no vi perdete i gruppi che suonano che fidatevi che ne varrà la pena di sentirli anche questa cosa del venire tardi e perdersi i gruppi signori veramente io la vedo un po come tra molte virgolette una mancanza di rispetto verso chi suona prima per chi la serata per cui veramente cercate di arrivare in tempo a meno che ecco non possiate per qualsiasi altro motivo oppure per il traffico che c'è però diciamo che se ci si organizza ci si riesce ad arrivare in tempo signori io penso di aver detto tutto in caso comunque sia non siete di roma perché giustamente mi dite frank però io non sono di roma non me la sento di affrontare la trasferta come posso fare beh vi ricordo che comunque saor sarà in italia per altre due date sarà al legend club di milano l'11 maggio e il 12 maggio a bologna per cui in caso non riusciate a venire a roma sappiate che avete altre due date che magari vi sono più vicine più comode e andatevelo a sentire perché veramente ne vale la pena ci sarà molta buona musica però sappiate che se non venite a roma vi perderete tante altre belle cose tante 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 altre belle cose signori un grazie di cuore per avermi ascoltato ovunque voi siate come dicevo prima che siate in macchina che siate a letto che siate sulla vostra poltrona che siate in giro grazie grazie per avermi ascoltato grazie di cuore per essere arrivati fin qui vi saluto grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni ci si becca sabato 13 maggio al traffic live club di roma ciao a tutti